Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custoda cautelare in carcere messa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio su proposta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria coordinata dal Procuratore Capo Dottor Giovanni Bombardieri nei confronti di una donna MD del 60, insegnante di religione accusata del reato di circonvenzione di persone incapace commesso ai danni di sei vittime. La donna trattene arresto, nativa di Reggio Calabria, ma residente a Messina oltre ad avere nella propria disponibilità diversi immobili in Calabria e in Sicilia era un'assidua frequentatrice di opere caritatevoli, immense dei poveri, chiese, soggiorni della Caritas e case di riposo. Nello specifico la donna facendosi scudo della sua professione, delle sue abitudini in termini di frequentazione era solita avvicinare e irritire persone psicologicamente deboli e incapaci di autodeterminarsi spesso aventi anche alle spalle un vissuto difficile. Durante le preliminari fasi dell'indagine i finanziari e i regini erano stati delegati dalla Procura della Repubblica a svolgere accertamenti a seguito della presentazione di una denuncia presso l'ufficio da parte di un quarantenne regino che tra l'altro riferiva di essere stato raggirato da alcuni parenti nel tentativo di sottragliere l'eredità lasciatogli dai defunti genitori. Da una prima analisi della denuncia però sembravano emergere delle anomalie. Il primo elemento che ha insospettito i militari e operanti è stata la non corrispondenza tra la calligrafia della firma del denunciante che sembrava essere molto elementare e come quella dei tipi che dei bambini alle prime armi con la scrittura e l'articolazione e la precisione con cui nella medesima denuncia venivano esposti i fatti incriminanti nei confronti dei parenti e regini del denunciante. A comprovare il tutto la successiva attività di indagine condotta attraverso sopralluoghi, appostamenti, escussioni e sommarie informazioni da numerosi soggetti, perquisizioni personali e domiciliari, analisi di copiosa documentazione, accertamenti bancari, che ha consentito così di giungere tramite l'incrocio dei vari elementi a uno scenario completamente differente rispetto a quello inizialmente delineato dai fatti indicati in denuncia. È emerso che attraverso un modus operandi ormai ben consolidato la donna si impadronisse del patrimonio immobiliare e mobiliare delle vittime, nonché del loro denaro e di ogni loro oggetto di valore, attraverso l'indotta sottoscrizione di procure speciali, testamenti e deleghe ad operare su conti correnti in suo favore. Inoltre, a seguito di accertamenti effettuati in sede di perquisizione domiciliare, si rileva come la donna, per il perseguimento dei suoi fini di circonvenzione, facesse persino ricorso a rituali e pratiche esoteriche, come emergeva da evidenze testuali e oggetti in cui si imbattevano i militari operanti nel corso della perquisizione. Ma qua non ci sono i riscaldamenti? Dove? I riscaldamenti ci sono. No, no, no. No? E non ha freddo lì? Sta tremando.